Io quando sono andata a votare, era a Roma, allora tutti votavano, c'era un tifo anche per la Repubblica. Si doveva andare a Poppi perché ci pagavano anche il viaggio, il 70-80%, ma insomma l'era anche pagato. Ma io siccome ero sicura che il mio papà era così, io tutti di famiglia, si votava tutti per la Repubblica. Allora io rimasi la tessera e dovevo venire a Poppi e non ci venni. Quando videro tutta questa razzumaglia dei monarchici che perdevano o le rulli lì, lei lo saprà meglio di me, che andarono tra 12 e 10 mila, allora mi cercarono per andare a votare in un salotto. Naturalmente lo sai perché? E io dici no, non sono andata a Poppi. Cercarono tutta la gente che era come queste tessere che le erano un po' sperdute e c'era dei raduni monarchici, capito? E non votai. Quello fu nel 40, non me lo ricordo. Però io ho votato sempre socialista e comunista, sempre, mai per la democrazia, mai. Quando ho votato e poi ora... Perchè troppo? Perchè troppo? Perchè troppo? Perchè troppo? Grazie a tutti